Quando giocate le schedine non sapete come vincere? Vi do un consiglio, passate sul canale Telegram di BetPro Io ve lo lascio qua sotto in descrizione Gianborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ho il cellulare perché? Perché diciamo che da adesso in poi, cioè nel senso tipo da ieri a domani Sembra strano dirlo, si prova, finalmente è così Ci saranno gli stage, gli stage, gli stage, gli stage Per quanto riguarda la nostra nazionale Attenzione perché ci sono stati un sacco di giocatori fra questi che dirò Che poi effettivamente sono stati rimandati a casa per problemi fisici eccetera eccetera Io voglio solamente commentare le convocazioni dello stage Per vedere insomma quali sono un po' le idee di Biagio Perché allora lo stage è quello spazio nel quale vanno a convocare giocatori Che il mister non conosce tanto bene Quindi gli dà un'occasione in più perché in altre occasioni non li vedrebbe Per me lo stage è molto molto buono Se fatto con il giusto criterio Fate attenzione Non potevano capitare né Lazio che è Coppa Italia Né Juventus Coppa Italia Né Atalanta Coppa Italia Né Milan Coppa Italia Né Napoli perché giocava di lunedì E né Cagliari perché giocava di lunedì Quindi tutti i giocatori delle altre squadre potevano essere convocati Le altre 14 più le squadre estere ovviamente Se non sbaglio Allora In porto sono stati convocati Meret e Scuffet Io penso che Scuffet Io penso che qui non ho nulla da dire ragazzi Cioè insomma Gli altri porteri tagliati li conosciamo tutti E Donnarumma lo conosciamo Buffon ci mancherebbe altro Sirico lo conosciamo Credo che insomma se avessimo dovuto fare i due nomi Questi sarebbero stati i migliori Sono contento Molto contento Che Di Biagio abbia puntato su di loro Sono meno contento sugli altri ruoli Perché allora c'è Bastoni dell'Atalanta Che nonostante non potesse essere convocato per quello che ho detto Probabilmente l'ha notato perché non faceva parte del centro Del progetto di mercoledì per la Coppa Italia Quindi insomma Hanno accettato di darlo per fargli fare questa esperienza Sono contento Sebbene non abbia dimostrato granché ancora Insomma si parla molto bene di lui Si parla un gran bene Quindi sono contento Poi c'è Biraghi della Fiorentina Che ci può stare Barreca del Torino Non lo avrei convocato Non me ne voglia lo stesso Barreca però ragazzi A me piace tanto Ma non gioca dagli anni di Cristo In campionato E gioca con la maglia del Torino Tu dici ok faccio manchina alla Juventus Faccio manchina al Napoli Non è questo il caso Quindi sinceramente O se ne va cercando spazio Oppure io qua nemmeno l'avrei messo Poi c'è Biraghi del Genoa Vabbè Ci può stare dai Ci può stare Lo scorso anno Ha fatto un'ottima stagione Quest'anno doveva confermarsi Ci può stare Kevin Bonifazi del Torino Ci può stare Ceccherini del Crotone Vabbè Ma insomma Nemmeno troppo Perché non è che Io non mi immaginerò mai ragazzi Ceccherini in nazionale Quindi per me come cosa è abbastanza inutile Gianmarco Ferrari della Samp Non ho da dire Benissimo così Va bene Il giocatore è fantastico Formidabile Sta esplodendo in tutto e per tutto Lorenzo Venuti del Benevento Non lo avrei portato Francesco Zampano dell'Udinese Ma non lo so Io ragazzi ho notato una cosa Molto molto importante Che molti giocatori Che sono stati convocati Dallo Stagio Per lo Stagio Sono sempre stati convocati In Under 21 Con Di Biaggio A me mi sembra una cosa inutile Cioè questi sono giocatori Che tu già conosci Per me doveva testare Non i giovani Cioè non è che lo Stagio È per i giovani Perché poi ovviamente Hai convocato anche gente Per dire Che ne so Come Ho visto non erano del tutto giovani Cioè tipo Berardi Ma comunque 23-24 anni Cioè l'inglese Non è ancora così giovane Grassi Non è che c'ha 18 anni Capito Il discorso Ovviamente non parliamo di Giocatori che abbiano 90 30 anni Ci mancherebbe altro Però nemmeno giocatori Che ce ne hanno 18 Quindi io avrei piuttosto chiamato Giocatori che in nazionale Non troverebbero spazio Che so Che so Per dire Ora Nemmeno sinceramente Mi viene a pensarci Però Per dire Giocatori del calibro di Balotelli Che non si sa se lo convocherai In avanti Non c'è Per dire Ogbonna Ogbonna Non lo convocano da anni Potevi portarlo Giovinco Non lo convocano da anni Sembra che non lo convocheranno Portalo Tanto sono gli staci Vedi come dice Trovi Magari ti rendi conto Che per il tuo gioco È il miglior giocatore del mondo E te lo porti appresso Perché poi ovviamente All'europeo ragazzi Sono giocatori che ci faranno comodo Anche a centrocampo C'è Benassi Che ovviamente Ragazzi Benassi lo conosciamo tutti Perché Che bisogno c'è di questo stace A parte quest'anno Non mi sta piacendo Non lo sento a me piace molto Ma lo stace a Benassi Cioè Benassi Si fa tutta la trafila Dell'Under 21 È il nazionale maggiore A Diciamo ogni tanto O a chiamata Non lo so Poi hanno chiamato Grassi e Cataldi Che è uno alla spalla E uno al Benevente A me non mi sta andando a piacere Nessuno dei due O comunque non pienamente Quindi probabilmente Per me sarebbero state meglio Se avessero fatto Sarebbe stato meglio Se avessero fatto altre scelte Più accurate Magari ribadisco I suoi giocatori Che hanno anche 27 28 anni Però che non vedono mai La nazionale Perché secondo me Così ci serve veramente a poco Mandragora Ci può anche stare Insomma Non ha mai visto Molto bene Il giro della nazionale Lorenzo Pellegrini Anche Ho sentito che è ritornato Ma Cioè ragazzi Pellegrini Ma che ce fa qua Cioè giochi Quasi titolare con la Roma Il nazionale Under 21 Giochi titolari Da una vita Ti chiamano anche Il nazionale maggiore Cioè per me non ha senso Stare qui Cioè Pellegrini Come altri L'esempio più lampante Poi l'avremo in attacco Ma comunque Anche dietro Qualche giocatore c'è È palese Che diventerà Non dico il titolare Però un giocatore fisso Dei 25 Della nazionale maggiore Quindi mi sembra Anche inutile Testarlo Ci sta Che abbiano testato In avanti Berardi ragazzi Berardi ci sta Ci sta perché Non è più Un giocatore da nazionale Non è più Un giocatore di calcio Quindi è giusto Che il mister Abbia voluto vederlo Da vicino Questo non lo biasimo Caprari ragà Ci può stare Dai ci può stare Con la Samp Non sta facendo così Così male Tipo Chiesa No allora Chiesa Mi spiegate cosa Mi rappresenta Chiesa Di Biagio Credo lo conosca Bene Chiesa Insomma ce l'ho avuto In nazionale adesso In under In under 21 Poi comunque ragazzi Chiesa Cioè titolare della Fiorentina A quelle da Chiesa Diventerà senza dubbio Giocatore titolare Della nazionale italiana Boh So contento Di vederlo qua Però Capite bene Che così si butta Un posto Magari ve lo ribadisco Per un Giovinco Per un Balotelli Ma per tanti altri giocatori Che magari avrebbero Ma anche per dire Quagliarella Cioè Quagliarella Ora tra due anni Si sarà ritirato Forse ho fatto L'esempio sbagliato Però comunque Si parla sempre Di un giocatore Che in nazionale Non gioca Perché dicono C'è una certa Eppure Col club fa bene Non è mai troppo tardi Per conoscerlo Poi qui abbiamo Di Francesco del Bologna Che potrebbe essere Una soluzione Abbastanza giusta Roberto Inglese Gli è stata fatta Un po' come regalo Per il momento Che sta avendo Anche se comunque Dubito che diventerà mai Un giocatore Da nazionale maggiore titolare Però insomma Se lo merita Pinamonti Ragà Ora con tutto il rispetto Per gli interisti È lì perché Cioè Parliamoci chiaro Pinamonti Voglio dire Pinamonti ha esattamente Allora Pinamonti Ha 18 anni Allora Ora io sono contento È un gran giocatore Lo sappiamo tutti Segna come un porco Cioè già quest'anno Ha fatto 7 con 11 partite Di Cioè c'è tra Youth League E Coppa Primavera Assolutamente È fortissimo Io lo amo Cioè Ragà Magari venisse Alla Roma Però sappiamo tutti Che Pinamonti Prima di poter venire Innazio Dovrà passare Dall'Under 21 Quindi Perché Perché voi direte Perché uno deve passare Forza No Non è che uno deve passare Forza Dall'Under 21 Però se adesso Inizia la Nazione Maggiore Verrebbe bruciato Perché probabilmente Ci sono giocatori Più forti di lui Che siano magari Bellotti Che io reputo Anche abbastanza Sopravvalutato Che sia Immobile Che segna come un cane Si parla magari anche di Dello stesso Ballotelli Che ora tornerà In Nazionale Poi abbiamo comunque Tantissimi giocatori Motivo per cui Pinamonti Per me Qua Ragà Ci entra veramente poco Magari Di Piaggio Lo vedete adesso Lo vedete perché Per l'Under 21 Quando tornerà giù E prenderanno Un commissario tecnico Non l'ho capita Però insomma Mi fa piacere Insomma di vedere il suo nome Politano L'ultimo L'ultimo è Politano Politano vabbè Diciamo che Politano Se lo merita Ha fatto Ha fatto tanto Negli ultimi anni E se lo potrebbe Anche merita Sinceramente Questa Se la potrebbe anche Merita questa Convocazione Perché alla fine È un giocatore Che Che comunque Bene o male Il suono da sempre Alla fine Non sta Quindi ci sta Ora io vi dico Aspettate un momento Che adesso vado a cercare Videogiocatori che Non vengono mai Convocazioni Ce l'ho davanti A cogiocatori che non vengono Mai convocati In Nazionale Che oggi avrebbero potuto Avere quell'occasione In più Per mostrare Ciò che sanno fare Allora Giorginio Giorginio Regà Ha giocato una partita In tutto In tutto il mondiale In tutta la qualificazione Al mondiale Con la squadra maggiore Gli avrei dato un'occasione Zazza Si poteva richiamare Per lo stage Perché è fuori dal giro Della nazionale Da due anni Quindi Poteva riprendere Minutaggio Poi Franco Vasquez È italiano Perché non lo convochi Qual è il tuo problema Ci sta che non ti piace Ci sta che l'Italia Non giochi con il trequartista Portalo Poi vediamo Poi valutiamo Poi Verdi Non so se è tornato Se è ancora in fortuna Se Verdi non è infortunato Andrebbe convocato Magari Che ne so L'ho detto Gbonna Caldara Però Caldara C'era la Coppa Italia Con l'Atalanta Quindi forse Quello non si poteva Sansone Del Villareal Che comunque È un ottimo giotore Che non viene mai convocato Ma magari Per dire Anche Esagerando Forse lo stesso Masiello Che comunque Vabbè Sempre il scopo dell'Atalanta Ma a dubito Lo avrebbero convocato Che comunque Ok Magari fra due anni Non giocherà In nazionale Però ragazzi Uno se lo merita Tanto vale Vederlo Lo stesso Pavoletti Pavoletti Che sta segnando Ettono da segnare Con il Cagliari Gagliardini Che non ha mai Dimostrato Ciò che doveva dimostrare Ed è sempre stato Lì 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 Per fare il salto Di qualità Se tu non lo vedi adesso Quando lo vedi in un match importante E lì poi Ti cacciano Se sbagli Lo stesso discorso Magari posso farlo Per Giaccherini Che c'era 32 anni Ma Giaccherini a 30 anni Ragazzi Correva Correva il doppio Di Verratti A parte Verratti Manco c'era A quel mondiale A quelle roba Però Correva il doppio Di quanto ha corso Verratti Alle qualificazioni mondiali Quindi insomma Adesso che è tornato al Chia Ha dimostrato Di poterla decidere Con un gol e un assist Forse un pensino Ce l'avrei fatto Ce l'avrei fatto Fatemi sapere come sempre Un commento questo Che cosa deve pensare Di queste convocazioni Del mister italiani Come sempre Vi ringrazio per la visione Se vi è piaciuto Mi piace In caso di dare un dislike Come sempre Scusate se sono raffreddato Ma sto Sto per esplodere Busciola Alla lì come sempre Ci vediamo un prossimo video Iscrivetevi Iscrivetevi Ciao Ciao